Dante non è Dante. Cosa vuol dire? Nella Divina Commedia il personaggio principale è Dante de Ghevi. Dante de Ghevi è anche l'autore della Divina Commedia. Dante non è un personaggio realmente esistito è un personaggio fittizio un personaggio inventato perché l'autore dell'opera la Divina Commedia è Dante de Ghevi che inventa questo personaggio Dante che ha lo stesso nome ma è un personaggio inventato un personaggio fantastico perché nessun uomo potrebbe arrampicarsi su mostri volare fare un viaggio ultraterreno fino alle viscere della terra per trovare Lucifero nell'inferno poi salire sul monte del purgatorio ed infine volare e vedere con i propri occhi Dio. Il personaggio creato da Dante ha lo stesso nome sa tutto della vita del nostro autore ma è un personaggio inventato il narratore è un personaggio fantastico. Ciao al prossimo video vi aspetto